La Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha chiuso le indagini preliminari su 36 persone accusate a vario titolo e con modalità differenti di reati che vanno dalla partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti al favoreggiamento personale aggravato. L'inchiesta scaturisce da una complessa attività di indagine che si è sviluppata a seguito di un approfondimento investigativo eseguito dagli investigatori del commissariato di Polizia di Siderno. I magistrati della DDA contestano l'operatività di una narqua associazione costituita da alcune persone che si sarebbero organizzate in un gruppo stabile dedito in modo continuativo all'acquisto, alla detenzione, alla custodia e alla cessione vendita all'ingrosso e al dettaglio di sostanze stupefacenti di diverso tipo provenienti dalla provincia di Reggio Calabria, in questo caso da San Luca, e poi immesse sui mercati dell'Emilia Romagna, precisamente a Cervia, in Piemonte e in Lombardia, gruppo caratterizzato da una chiara divisione di ruoli da stabili canali di approvvigionamento e di successiva commercializzazione della sostanza per l'attività di spaccio al minuto. Nello specifico gli inquirenti contestano a Salvatore Giorgi, Sebastiano Strangio e Sebastiano Cua il ruolo apicale di promotori, direttori, organizzatori e finanziatori dell'associazione, approvvigionando il sodalizio della sostanza stupefacente, soprattutto mantenendo i rapporti con gli stabili fornitori e contrattando i termini delle singole forniture, nonché organizzando poi l'attività di vendita della sostanza attraverso gli stabili canali di commercio e rivendita. Secondo l'ipotesi accusatoria, inoltre, l'asserita associazione che avrebbe agito tra San Luca, provincia di Ravenna, tra il 2012 e il 2013 avrebbe ripartito gli utili tra i vari partecipanti.